L'ultima medaglia di Jordanka, anche se avrebbe partecipato pure ai giochi di Mosca del 1980. Per l'Italia splendido argento, per Sara Simeoni 1,91 primato nazionale, la veronese deve però inchinarsi ancora la tedesca dell'est Rosemary Ackerman, già oro a Roma, gli europei, 1,93 oggi la misura vincente. Grazie per la visione!